E tra gli ultimi arrivati in casa giallorossa, classe 87 esterno d'attacco, Abdu Dumbia arriva alla corte di Moriero in prestito dal Parma, svelando come il primo ad aver notato appena arrivato in Italia sia stato proprio l'attuale presidente del Lecce, Savino Tesoro. Mi aveva visto la Sant'Ecigesin quando giocava in Serie D e mi voleva portare alla poppatia, però non è andata bene. E niente, adesso mi ha voluto qua e sono contento di essere qua. Subito in campo con i compagni, felicissimo per la scelta fatta. Quando mi hanno chiamato per venire a Lecce non ci ho pensato perché qua è una piazza da Serie A. Io guardavo in televisione quando ero in Francia, guardavo la Serie A italiana e vedevo sempre il Lecce, quindi mi sono venuto subito. Una carriera in Italia con Pescara, Sante Edigese, Atletico Roma, Ascoli, Como Siena. Trenta presenze lo scorso anno con la maglia del San Marino, impreziosite da sette gol. Livoriano è pronto a giocarsi alla pari, una maglia da titolare nello scacchiere che Moriero sta predisponendo. Tutti qua vogliamo una maglia da titolare, però adesso io devo entrare in forma, perché in forma adesso non sto bene fisicamente. Dove entrare in forma e piano piano conquisterò questa maglia. Mi metterò a disposizione del mister e vedremo. Grazie. 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 Grazie.